Hi guys, qui è Ryan, il vostro cripto analista di fiducia e in questo video andiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno del criptomercato soprattutto perché stiamo vedendo Bitcoin che ha ritestato più e più volte nelle ultime ore i massimi annuali Massimi annuali che passando col visuale proprio su TradingView possiamo vedere che sono all'incirca verso i 44.660 dollari Stiamo vedendo nelle ultime ore fare una fase di congestione proprio a partire dalle 12 del 20 dicembre 2023 fino al momento in cui sto registrando dove usciliamo all'interno di questo range, range che possiamo definire come una fase di accumulo o di distribuzione a seconda ovviamente di dove deciderà di andare il prezzo qualora andasse a rompere una delle due pareti superiori o inferiori Comunque sia possiamo vedere che ragazzi Bitcoin attaccava più e più volte i massimi e relativi di quest'anno ma volevo riportarvi proprio come avete anche letto dalla copertina e dal titolo un pattern che si sta creando molto interessante proprio sul weekly di Bitcoin Per la prima volta della storia ragazzi abbiamo i dati opportuni, abbiamo abbastanza dati per andare a definire un golden cross sul settimanale Se prendiamo in considerazione la media, la media mobile è semplice a 50 e a 200 periodi Infatti abbiamo assistito per la prima volta nella storia un dead cross che è avvenuto all'incirca il 13 febbraio 2023 o meglio durante quella settimana Ma ragazzi siamo sempre più vicini ad un golden cross Ciò vuol dire che è un battement alzista per quanto riguarda in questo caso Bitcoin E' anche vero che ragazzi diciamo che questa movimentazione, quest'ultima movimentazione della media mobile a 50 periodi che l'ha fatta fare questo incremento che abbiamo assistito dalla settimana del 16 ottobre dove abbiamo visto Bitcoin che è performare del 60% fino ai prezzi odiermi Saremo a vedere perché solitamente questo si potrebbe confermare come un pattern bullish E' anche vero sul settimanale che siamo molto estesi Infatti abbiamo un RSI che all'incirca quota a 83,22 Abbiamo il desafio leggermente a livello di 70 Ma comunque siamo abbastanza alti Ciò che mi piacerebbe vedere ragazzi è vedere uno scarico dell'RSI per poi andare a confermare un golden cross Interessante vedere come le zone di liquidità proprio sulla liquidation heatmap di BTC contro USDT, ovvero Tether, la criptovaluta, la stablecoin più importante attualmente nel mercato cripto sono delle zone che Bitcoin rispetta tantissimo Infatti avevamo visto un liquidation leverage all'incirca 44.400 dollari di 335 milioni di dollari che è stato colmato durante l'escursione Come zone di importanza sul tre giorni abbiamo attualmente 42.100 dollari con un liquidation leverage di 327 milioni Attenzione perché come vi ho detto più volte all'interno dei miei video ma soprattutto quando avevamo l'altro canale le zone di liquidazione soprattutto per Bitcoin sono molto importanti da andare a prendere in considerazione che ci fanno capire una possibile direzione di gamma ma soprattutto dei possibili punti di rimbalzo che Bitcoin potrebbe ovviamente andare a prendere durante il corso di un trend Per la TV2 questo trend di assist delle come tutte le zone di liquidazione sono state prese e come vi dicevo prima ragazzi attenzione alla zona dei 40.500 dollari circa perché qui abbiamo un liquidation leverage molto alto un po' come avevamo stamattina e infatti lo abbiamo colmato Passiamo con Bitcoin CNA Futures ovvero i grafici che prendono in considerazione soprattutto gli investitori istituzionali Abbiamo ancora questo gap da andare a prendere solitamente che queste sono delle zone che Bitcoin potrebbe prendere nel breve barra lungo termine qui stiamo parlando di un grafico daily possono passare ancora settimane prima di andare a prenderlo però ragazzi abbiamo due dati che ci possono indicare una possibile ricorrezione anche l'ampo al di sotto di queste zone perché se andiamo a prendere anche un liquidation leverage con un grafico temporale un po' più alto possiamo vedere che andiamo ad inserire one month la zona all'incirca di 40.000 dollari è molto importante da andare a liquidare ovviamente il grafico senza dubbio è ancora molto bullish soprattutto sul settimanale, i due giorni e i daily però ragazzi attenzione a tutte queste indicazioni che ci possono far capire una possibile flash di correzione per poi magari continuare la salita di Bitcoin Passiamo con la dominance dominance che negli ultimi giorni sta ricorreggendo e questo sta a significare che parte dei capitani stanno fluendo da altcoin per andare ovviamente anche sulle altcoin o comunque se gli investitori sono più predisposti ad investire e mettere capitani in altcoin piuttosto che in Bitcoin infatti possiamo vedere passando a RobiJoy su CryptoBubbles abbiamo Rose che guadagna 24,1% ma è l'ultimo in 24 ore abbiamo OP che è il token ufficiale di Optimize che cresce nell'ultimo giorno del BIP 5,1% in linea generale possiamo vedere il mercato relativamente misto ma con qualche altcoin che riesce a performare alla grande Passiamo per Ethereum, Ethereum che è un po' la metrica più importante che possiamo andare a prendere per quanto riguarda dei fruili dei capitali sulle altcoin infatti possiamo vedere che nell'ultime ore proprio a partire da 10 dicembre dopo diversi retests della parete inferiore di questo camale ormai ascendente siamo sull'Ethereum che comunque sia è in forte ricrescita ciò che mi piace di vedere è l'Ethereum che bari i testali massimi annuali che coincidono più o meno con la mediana di questo camale ascendente che si trova in circa 2.400 dollari voglio prendere in considerazione Solana perché so che molti di voi, proprio come anche io siamo degli investitori di Solana investitori attivi di Solana ragazzi, l'avevo detto negli scorsi video che qualora avessimo sfondato questa zona ovvero la zona dei 77 circa saremmo potuti andare a ritestare addirittura anche i 101 dollari noi abbiamo ritestato i 101 dollari ma abbiamo testato momentaneamente con la candela di oggi Inoban per 9 dollari ovviamente stiamo parlando di zone e soprattutto ragazzi se dovessimo sfondare questa zona qui e andiamo a segnarla con questa trendline possiamo direttamente andare a toccare zona 118 dollari perché a livello grafico ragazzi non abbiamo nessun porto e resistenza che possono almeno confrontandosi col passato a livello di analisi tecnica oltreggiare la nostra salita passiamo con un paio di notizie molto interessanti su Pre-Pensensitive possiamo vedere che la Hong Kong Security Commission ha detto che sono preparati e si sono preparati ad accettare le application di Bitcoin e ETF sempre più istituzioni sempre più stati stanno aderendo in qualche modo con il mondo delle criptovalute ma soprattutto Bitcoin come strumento finanziario possiamo vedere che sempre prendendo in considerazione il giro attacco degli addresses with balance che detengono almeno un BPC all'interno del portafoglio abbiamo raggiunto nuovamente l'all time high inoltre passando in zona US parlato sempre di Bitcoin e che after application possiamo vedere che oggi secondo Fox Business la SEC incontrerà nuovamente vari enti per assicurarsi che tutti gli enti emittenti di questi ETF di spot utilizzino i cash creates che è una metodologia tecnica per far funzionare e soprattutto per riconvertire le azioni dei propri ETF vi ricordo che qui in descrizione vi lascio il link per descriversi a ByBK main pack del canale iscriviti al canale lascia un like qui da Ryan è tutto ci vediamo nel prossimo di video bye bye